Quando noi riceviamo delle informazioni dagli altri abbiamo tre opzioni, una di queste è fidarsi di chiunque, ecco la prima opzione o comunque la prima tendenza, cioè quella di essere più accondiscendenti alle informazioni esterne, a credere tendenzialmente alla buona fede degli altri è una possibile tendenza comportamentale, chiaramente ha dei rischi notevoli, ha anche qualche vantaggio nel senso che se noi ci chiedessimo ogni volta o se non ci fidassimo ogni volta dagli altri avessimo bisogno di mille prove prima di credere a qualsiasi cosa, ovviamente la nostra vita sarebbe focalizzata tutta sul calcolo e andremo anche a sovrastimare le cattive intenzioni degli altri, quando noi facciamo questo tendiamo a vivere in maniera più insoddisfacente il punto di vista degli altri. Poi abbiamo il pensiero paranoide che è l'altro opposto, ma capitemi questi sono i due estremi di un continuum, ognuno di noi è sbilanciato da un lato o dall'altro, ad esempio potrebbe non credere mai agli altri, ecco questo porta a molta insoddisfazione, a volte si ha ragione, a volte si ha torto, ma capite sono tendenze comportamentali. Noi abbiamo due tendenze, ecco questa tendenza a fidarsi più spesso degli altri o una tendenza a fidarsi molto meno spesso. Al centro, e cioè quello che noi dovremmo favorire nei processi educativi, abbiamo il pensiero critico. Il pensiero critico significa che la persona sottopone tutte le informazioni che ha a disposizione, le elabora e poi prende una decisione. Non parte con un presupposto di fiducia o sfiducia negli altri, ma parte con voglio tante informazioni, voglio comprenderle, elaborarle. Ecco, il pensiero critico è sicuramente ciò che noi dovremmo incoraggiare nei studenti, nelle future generazioni, ma anche nelle attuali generazioni. Ecco, il pensiero critico è qualcosa che aumenta la nostra soddisfazione per la vita, ma non lo applichiamo così spesso. Questo è un problema. Un motivo è che l'impegno mentale per applicare il pensiero critico è significativo, è grande. Se io per qualsiasi decisione devo prendere tutte le informazioni disponibili, rischio di dover impiegare un calcolo molto elevato, molto particolare. Se io per scegliere che sugo acquistare vado a confrontare le migliaia di variabili che entrano in gioco nella produzione di quel prodotto, è ovvio che impiego tantissimo tempo. Inoltre, un altro motivo per cui non applichiamo il pensiero critico è che la nostra capacità di memoria e di attenzione è limitata. Dei notevoli limiti noi possiamo considerare una certa quantità di variabili, il nostro calcolo non è simile a quello che fa un computer. E inoltre noi preferiamo le scorciatoie di pensiero, preferiamo semplificare, preferiamo considerare uno o due fattori alla volta. E ovviamente questo ci porta ad avere un calcolo, tra virgolette, incompleto. In altre parole, noi seguiamo dei bias cognitivi. Bias è un termine che si usa in ricerca, comunemente usato anche in italiano, ma significa errore sistematico di valutazione. Ci sono delle tendenze a formulare dei errori di valutazione che sono più o meno stabili, più o meno sempre presenti. Una di queste si chiama euristica della disponibilità. L'euristica della disponibilità è un errore comune e trasversale che ognuno di noi fa quando va a elaborare le informazioni, quando va a elaborare quello che ci viene detto. Ecco, se vogliamo riassumere l'euristica della disponibilità, dobbiamo dire che questa è la sovrastima delle probabilità di ciò che è più facile da recuperare in memoria. Se una cosa è facilmente recuperabile in memoria, cioè me la ricordo facilmente, allora la considererò anche più probabile. Semplicemente perché mi viene in mente, ma attenzione, la nostra memoria non è un database statistico, la nostra memoria è la somma delle nostre esperienze e quindi di ciò che ci viene detto. Per esempio, se una cosa è facile da recuperare in memoria, tenderemo a considerarla più probabile. C'è un famosissimo esperimento, uno studio, che ha chiesto alle persone di valutare la probabilità di rischio che una certa cosa accade. In particolare, questo studio andava a valutare le cause di morte. Quali sono le più probabili cause di morte secondo te? Questa era la domanda centrale dello studio e ne venivano comparate tantissime, sicuramente uno degli esempi più noti è che venivano anche comparate, venivano anche richieste le probabilità di morte causate dall'aggressione di uno squalo, in un caso, o dalla probabilità di essere colpiti da una noce di cocco, che appunto con la sua caduta può colpirci in testa e ucciderci. Ora, nei fatti, queste due cose sono probabilità che rasentano lo zero, ok? Le persone somrastimano però la probabilità di essere aggrediti da uno squalo rispetto alla caduta di una noce di cocco. Cioè, quando chiediamo alle persone secondo te qual è la più probabile, si sbilanciano molto di più verso lo squalo rispetto alla noce di cocco. Perché? In verità non c'è un reale rischio di morte in ognuno di questi due casi, ma le noci di cocco tra le due sono anche più pericolose. Nel senso che esiste uno studio in zone appunto dove le noci di cocco e questi alberi sono molto diffusi, che ha determinato e ha spiegato che è possibile essere infortunati. Cioè, questo rischio c'è laddove c'è una grande distribuzione di noci di cocco. Cioè, Steve Bars ha certificato che il 2,5% degli infortuni in Papua Nuova Guinea era causato proprio dalla caduta di noci di cocco, mentre nessuno viene aggredito da uno squalo, ecco. Però era molto più facile immaginare l'aggressione di uno squalo perché c'è stato un film che ne ha divulgato, ovviamente ognuno di noi sa che è una finzione, ma ha divulgato appunto una storia in cui umani venivano attaccati dallo squalo. Quindi era più facile immaginare, sebbene anche a un livello consapevole tutti noi sappiamo che quella è una storia finta, ok? Sappiamo che è un film, ma era molto più facile immaginare rispetto a uno che viene colpito da una noce di cocco. Mentre, insomma, il reale rischio di infortuni in questo caso esiste. Se vogliamo comparare gli squali con altri animali, è più probabile che si venga attaccati da un orso, è più pericolosa la zanzara perché trasmette la malaria, è molto più pericoloso il piccione perché trasmette delle infezioni. Ma nessuno lo immagina, perché non c'è un immaginario in questo senso. Ecco, questa è una modalità molto semplice per dimostrare che l'euristica della disponibilità è una modalità che ci porta a trasfigurare le nostre informazioni, in qualche misura a sviarci. Semplicemente, e quindi questa è una modalità per cui noi potremmo essere ingannati dalle informazioni esterne, se una certa informazione ci viene ripetuta più volte, ci viene semplificata più volte, ci viene raccontata più volte, noi tenderemo a ritenerla più probabile. La ripetizione è una forma di manipolazione. Ad esempio, se di fronte a determinate notizie ci vengono ripetute più spesso alcune di queste, noi tenderemo a ritenerle più probabili. Faccio un esempio. Se tra tutti i casi di omicidio o di violenza sessuale, un media decide di divulgare più spesso i casi in cui questi sono condotti da persone che non hanno una nazionalità italiana, quindi da migranti o da persone con altra nazionalità. Ecco, più volte viene ripetuta questa cosa, più una persona tenderà a dire che è probabile. quel media, quel giornale, quella tv che ripete questa notizia non sta dicendo il falso, magari sta dicendo la verità, ma ripete più frequentemente una certa storia, noi la leggiamo più spesso, se ci viene chiesto quanto una cosa sia probabile, noi la ricordiamo più spesso e quindi pensiamo che sarà più probabile. Ma determinare questo, casomai, sarà l'Istituto Nazionale di Statistica della nazione che andremo a indagare. Non di certo il fatto che una notizia sia più o meno presente. Questo ovviamente lo decidono i media, è una soluzione veramente definitiva ed equa per rendere un media equivalente a una statistica, non è facile perché comunque c'è uno spazio limitato, c'è un tempo limitato, i media decideranno che notizie dare, quanto spazio dare, come una soluzione definitiva per cui in media si ha la rappresentazione pura della realtà, è difficile. Sicuramente i media, i giornali o comunque tutte le persone che hanno un potere di influenza sugli altri, hanno un potere divulgativo sugli altri, si devono porre la domanda di renderla più equa possibile. Sicuramente io credo che divulgare al massimo possibile i risultati che gli istituti nazionali di Statistica fanno è sicuramente importante, anche divulgare l'importanza della Statistica nella popolazione generale è importante. Quindi quando ti chiedono di stimare la probabilità che una certa cosa accada, è semplicemente tu vai in memoria, cerchi degli esempi, se ti vengono in mente direi che è probabile. Ma non è necessariamente così, la nostra mente non è un calcolatore. Vedremo nella prossima lezione che cos'è l'effetto framing, perché anche questo può influenzare il modo in cui raccogliamo le notizie. Grazie.